Ehi la, fagiolo! Mi sa che hai bisogno di un amico? Bella fortuna ti assiste! Perché presto Fall Guys piruetterà dal vivo su molte più piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox, Switch e Epic Games Store! E con il crossplay e la cross progression, giocare con gli amici non è mai stato così facile! Ma aspetta, c'è dell'altro! Fall Guys diventerà gratuito! Fai squadra con i tuoi amici su tutta la serie di contenuti stagionali di Fall Guys! E per quelli di voi che sono con noi già da un po', c'è un pacchetto Legacy gratuito! Per i nuovi arrivati abbiamo un sacco di Fall Guys divertenti, rosolanti, patatosi e... Questo qui! Ci saranno più sfide, costumi e ostacoli di quanto un fagiolo ne sappia contare! Qualcuno può dargli... una mano? I tuoi guys non sono responsabili per gli infici causati da fagiolo nel cesto, cuoco, amico, inacchia, palaco, da squadre, ferite da divertimento eccessivo, ipertensione, amici, sembrante da perditi, cofagni di squadra, la classificazione dei registri tra i frutti, la microgestione dei direttori degli spettacoli, i risultati micristi di una spara magica, il malfunzionamento dei fagiobot o gli incubi di qualsiasi fagiolo, battuzzo, alto, piccolo, lungo, largo. Grazie a tutti!